Ancora disagi per i pendolari della Bari Nord, questa mattina con un post su Facebook Ferro Tramviaria ha comunicato la soppressione dei treni tra Barretta ed Andria si avvisano i signori viaggiatori che per motivi tecnici l'espole, treno, Barretta e Andria sono state temporaneamente soppresse a partire dalla corsa S6 delle 8.40 sino a nuovo avviso, il servizio è comunque garantito da bus sostitutivi che partiranno secondo il programma ferroviario questo è quanto comunicato via Facebook non sono mancati naturalmente i commenti e i disagi di quanti non hanno appreso la notizia in tempo utile restando ad attendere il treno in stazione per poi perdere anche il pullman inoltre lamentano i pendolari, la fermata del bus di Barretta è priva di pensilina ed in giornate come queste con la pioggia ed il vento si va scrivono di male in peggio